o ritorno al bosco dei cento acri ciao a tutti fratelli e sorelle bentornati benvenuti nuovo video qua sul canale lorenzo lollo oggi oltre a essere il lollo into the wild è anche la vostra giornata perché mentre venivo qua mentre correvo per venire qua due ragazzi e una ragazza in macchina si sono fermati lollo stiamo soffrendo quindi niente oggi è anche il vostro giorno tra l'altro ha piovuto mi ha detto le mani avanti perché ha piovuto siamo in un bosco quindi la possibilità che io faccia un bel rotolone mentre vi sto girando questo video sono molto ampio nel caso terrò il video così com'è perché è giusto che io paghi per i miei errori come è giusto che qualcuno paghi per i propri errori nella scelta del capitano e questo è il link non voluto link assolutamente non voluto allora ragazzi ma ci sono che bello ci sono un sacco di lumachine ci sono un sacco le lumache allora ragazzi matthew cage capitano pare proprio che la scelta definitiva sia caduta su matthew cage che dovrebbe ricoprire nella partita contro l'udinese poi ci arriveremo all'interno del video dovrebbe è diventare il capitano del milan e quindi ho pensato un attimo no e ho detto fammi fare un attimo un ragionamento con i fratelli e le sorelle sui capitani del milan partiamo da ambro perché la successione è ambrosini montolivo romagnoli donna rumma calabria ok non so come me li sono ricordati tutti non facciamo domande le quali non sappiamo dare delle risposte ambro allora ambro massimo rispetto per ambro uno degli ultimi immortali del del milan grandissimo giocatore soprattutto e poi capite perché arrivo a parlare di troppo a questa cosa qua grandissimo leader ambro ragazzi grandissimissimo leader in mezzo in mezzo al campo ed è stato uno di quei giocatori a aspettate che qua rischio altissimo di volare è stato uno di quei giocatori ragazzi che comunque ci hanno dato tantissimo a livello di leadership quindi per ambro grandissimi ricordi da parte da parte mia ambrosini montolivo allora montolivo io lo metto raga nella categoria nella categoria dei suso e nella categoria dei giacomo jack buonaventura mi spiego meglio giocatori ovviamente anche su questo canale non ovviamente non è che voglio raccontarvi le cazzate a montolivo l'abbiamo letteralmente distrutto ok forse anzi senza forse al di là anche delle sue reali responsabilità ok perché credo che comunque monto vi stavo dicendo fa parte dei buonaventura e fa parte dei suso perché fa parte di quella schiera di giocatori cos'è raga che cacchio è cosa ha fatto un non posso dirlo ma che cacchio guardate cos'è sembra tipo un recinto una una gabbia ma che cacchio ho fatto qua ragazzi stranissimo sembra tipo che hanno fatto una seduta spirit andiamo via va andiamo via che non voglio sentire sentire nulla montolivo lo metto all'interno dei suso e all'interno dei giacomo jack buonaventura cioè di quelle di quei giocatori che purtroppo sono finiti in delle squadre delle rose e dei momenti storici del minan veramente sfigati perché comunque è così ragazzi quegli anni lì era stata è stata veramente una vi ricordate l'effetto suso per i vecchi del canale si ricorda il disuso la mattonella del disuso che storia raga in quegli anni lì ci hanno fatti quelle risate grandissime vabbè montolivo quindi abbiamo detto ambro montolivo romagnoli capitano capitano romagnoli raga primi due ricordi non me ne voglia non me ne voglia il capitano romagnoli ma il primo ricordo che mi viene in mente è che lo scudetto ovviamente e secondo ragazzi è come ci siamo lasciati perché tu non puoi tu non puoi ragazzi li vedete andiamo via va prima che fanno il sacrificio prima che lo fanno con me fa il culo va fate quello che volete non c'è problema la prima cosa che mi viene in mente pensando romagnoli raga ovviamente lo scudetto e la seconda non me ne voglia alessio ma è come ci siamo lasciati perché vince uno scudetto al milan ti scade il contratto e poco dopo scopriamo tramite le tue parole quelle di della gente eccetera eccetera che era già da tra quattro anni che stavi tramando tramando il fatto che sareste andato via zero vedete quello che vi dico sempre io che cosa vi dico sempre ragazzi quando parliamo delle 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 cessioni dei giocatori che se un giocatore vuole andare via alla fine ci va via ragazzi sono sempre solo i rinnovi e tutto sono sempre solo scelte dei singoli giocatori andiamo avanti romagnoli quindi abbiamo detto donna ruma raga io quella roba lì di donna ruma che è andato via va allo stesso discorso fortuna vuole che poi abbiamo trovato un portiere molto più forte di donna ruma un portiere con molta più leadership eccetera eccetera ma io io a donna ruma ragazzi io ho il fatto che sia andato via in quel modo lì anche lui il fatto che ci abbia tradito di fatto per soldi poi se vogliamo fare i buonisti vi dico che ognuno nella propria carriera fra quello che vuole eccetera eccetera facciamo i buonisti ma la verità è che quella lì per noi tifosi del milan è stata una cortellata è stata una cortellata proprio bella e buona quindi poche poche palle quindi donna ruma il mio ricordo di gigio di gigio quello e poi arriviamo probabilmente al più controverso e contestato capitano degli ultimi anni mi riferisco a davide calabria allora ragazzi io credo che con davide non ci sia mai purtroppo la giusta via di mezzo lo sappiamo tutti e lo sa anche lui ragazzi che davide calabria non è paolo maldini però tanti insulti che li sono arrivati nell'ultimo periodo cioè che poi capitemi ragazzi che poi magari non sia il giocatore di cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno di qualcuno più forte che poi tutto quello che volete ragazzi tutto quello che volete sono io il primo a dirvelo ragazzi però tante volte purtroppo con lui si è si è esagerato in negativo cioè perché comunque un nostro ragazzo è uno che ha sempre indossato la maglia del milan e tutto quindi critichiamolo per quello che fa sul campo ma purtroppo negli ultimi anni tante cose sono sfociate per quanto riguarda davide in un campo che probabilmente era al di fuori anche delle sue reali responsabilità problema oggi che non fa giocare davide e devi far giocare emersone lo scarsone royalone il vero problema il vero problema reale in cima a tutto è proprio è proprio quello e poi veniamo ovviamente ragazzi al capitano attuale perché oggi il capitano nella partita contro l'udinese non ci sarà teo perché è squalificato per due giornate poteva essere rafa potevano essere tanti capitani in campo davido ovviamente calabria non c'è quindi probabilmente il capitano contro l'udinese così dicono le news dell'ultima degli ultimi minuti dovrebbe essere matthew cage ragazzi in questo momento se c'è qualcuno che incarna perfettamente il milanismo e si merita di indossare alla fascia è proprio matthew è proprio matthew cage ragazzi perché è uno che in questo momento sta dimostrando di voler bene alla maglia è uno che sta dimostrando di voler tirar fuori veramente le palle per la maglia quindi come vi dicevo l'altro giorno quella roba lì no quando ve l'ho detta è passata un po così sotto traccia ma in realtà secondo me meritava un pochino più attenzione no perché sapete che quando vi racconto le cose nelle stronzate poi vi miro sempre qualcosa di importante e secondo me quella cosa importante a cui miravo con una frase era che la fascia del milan non bisogna solo metterla al braccio la fascia del milan te la devi mettere in testa la fascia del non che te la devi mettere fisicamente in testa ma la fascia del milan è una cosa che che va al di là del semplice braccio cioè è rappresentare il milan in quel momento stai rappresentando il milan e oggi visto i fatti dell'ultimo periodo credo che il giocatore in questo momento guardate che bello qua il giocatore in questo momento che può e deve rappresentare il milan nella sua nella sua interezza credo proprio che sia matthew cage ragazzi vi saluto vi ringrazio come sempre è stato un piacere e vabbè oggi l'all into the wild è praticamente tutto dedicato a matteo gabbi e capitano e non sono caduto almeno fino adesso e già questo lo considero un bel successo like iscrizione al canale ci vediamo domani con il video giornaliero ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti